Nuovo appuntamento con le notizie di oggi a nord-est. Toccano quasi 600 i casi positivi a coronavirus in Friuli, Venezia e Giulia, con un incremento mai registrato prima dall'inizio dell'emergenza. Sono precisamente 599 più 137 in più rispetto alla comunicazione di ieri. Anche i nuovi decessi aumentano, sono 5 in più rispetto a ieri. Esattamente portano il totale a 36 morti per Covid-19. 11 a Udine, 1 a Pordenone, 24 a Trieste e Gorizia. Lo ha reso noto il vice governatore con Delegala Salute e Protezione Civile Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Il maggior numero di casi positivi si registra ancora nel territorio udinese, 266 e in quello triestino, 208. Seguono il Pordenonese con 97 casi e il Goriziano con 28. E sale ancora il numero delle persone contagiate nella regione Veneto. Il totale registrato questa mattina è a 3.484 casi positivi, 100 in più rispetto a ieri. Due nuove vittime del virus a Oderzo e Vicenza. Impressionante il numero dei cittadini in isolamento domiciliare perché trovati positivi al tampone o venuti in contatto con soggetti contagiati. 10.124 persone sono costrette a restare in casa, non possono uscire per alcun motivo. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha lanciato un allarme perché venga rintracciato. Quanto prima, un camionista ha respinto questa mattina al confine sloveno perché alla misurazione della temperatura è risultato avere febbre a 40 gradi e di cui si sono perse le tracce. Ziberna ha immediatamente chiesto l'intervento del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell'Interno della Salute al quale ha inviato una lettera. Stamane ho appreso di come le autorità slovene al valico di Sant'Andrea Vertoiba abbiano riscontrato un autotrasportatore con 40 gradi di temperatura corporea, gli abbiano impedito l'accesso in Slovenia e l'abbiano rimandato in territorio italiano. Si legge nella lettera. Al momento potrebbe esserci una persona malata che transita nel nostro comune. Aveva frequentato i corsi al MIB School of Management di Trieste sei anni fa e ora, spiega il comune, per testimoniare la propria gratitudine all'istituto e la propria vicinanza a docenti, studenti e personale e per estensione a tutta la città in questo momento difficile, ha donato 4.000 mascherine chirurgiche alla comunità. Accade dunque nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, protagonista un ex studente cinese Walter Yu, arrivato nel 2014 in Italia nell'ambito di un interscambio tra il Linian College dell'Università di Guangzhou e il MIB. Le mascherine di fabbricazione cinese, certificate CE, sono già state spedite e dovrebbero arrivare a breve alla protezione civile locale. Altre mascherine sono state donate ai triestini dai giovani della comunità cinese, le hanno lasciate nelle cassette delle lettere, 200.000 sono giunte alla regione Friuli Venezia Giulia dall'India. Riccardi sufficienti agli operatori per una settimana, ma è solo la prima fornitura di una serie di ordini. Ed ora diamo la linea alla redazione di Treviso. Coronavirus, festa e musica sul tetto per 20 persone a Treviso. Tre denunce nella notte del 18 marzo. La polizia locale di Treviso ha fatto irruzioni a un festino abusivo. I partecipanti si sono giustificati dicendo che si trattava di un flash mob. Non sono stati convincenti. Coronavirus, operai senza protezione. Due aziende trevigiane nel merino dello Spisal. In una sola giornata sono state controllate 156 realtà. Solo in due casi i tecnici hanno chiesto di incrementare i dispositivi per lavoratori. Il bar, la briscola e l'ombra di bianco. In provincia di Treviso il caso che somiglia a Vaux. Gli esperti osservano con attenzione il triangolo dei contagi. Orsago, Sanfior e Caneva, dove c'è il picco di decessi e il ricoveri. Al cimitero la fila delle bare. Lo scatto dell'asolano Claudio Fullan sul New York Times. L'immagine del fotoreport trevigiano sulla prima pagina. Il 34enne di Asolo dice ora però voglio fotografare la ripresa dell'Italia. Lotto, Aia e Basf non chiudiamo. Nella marca due su tre resistono ancora quindi al coronavirus. Forno d'Asolo si ferma fino al 28 marzo. La stiga va in cassa e la CISL dice tra pochi giorni a rischio la filiera del metalmeccanico. Rosario Moreno, Treviso per Radiodiffusione Europea. Continuano i controlli dei carabinieri a Venezia e provincia per il rispetto dei limiti imposti dall'emergenza coronavirus. A Venezia, centro storico, i militari hanno denunciato dei cittadini in quanto lontani dalle loro abitazioni quali venivano trovati a passeggio senza giustificato motivo. In riva degli schiavoni è stato denunciato un uomo mentre era intento a praticare attività di pesca a scopo ludico su un pontile galeggiante ancorato nel tratto di banchina antistante il presidio militare. In terraferma e provincia i carabinieri in particolare a Favaro, Marghera, Martellago, Mirano, Scorze e Spinea hanno denunciato dei cittadini di cui alcuni stranieri, alcuni pensionati ma anche dei giovani in quanto lontani dalle loro abitazioni senza giustificato motivo. Uno straniero ha inoltre fornito false generalità mentre un pensionato da Noale si era spostato a Scorze senza alcuna giustificazione. Oggi la Cina ha raggiunto il record di zero casi a livello di contagio interno vuol dire che il virus si può combattere e sconfiggere l'hanno detto i medici di una delegazione cinese in visita in questi giorni agli ospedali di Padova. Abbiamo portato non solo materiali sanitari ma anche fiducia ai colleghi italiani hanno affermato. In questi giorni hanno aggiunto abbiamo interagito con il personale sanitario vedendo le misure di prevenzione e di controllo. Abbiamo fiducia che Padova uscirà da questa situazione molto presto perché qui si sta facendo un ottimo lavoro. I colleghi italiani, ha concluso la delegazione, potranno adottare i protocolli adattandoli alla situazione locale per sconfiggere il virus al più presto. Tra i suggerimenti quello dei test ad ampio raggio. Come dice l'OMS bisogna fare i tamponi, i tamponi e i tamponi. Avevano qualche lacuna sui tamponi, poi ne abbiamo fatti tantissimi, più di 100.000 al giorno, superiori sia ai casi di contagio che ai casi sospetti. Un maestro di equitazione di 51 anni è stato condannato dal GUP del Tribunale di Udine a 4 anni e 8 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di aver avuto rapporti sessuali con due allieve che all'epoca di fatti avevano 13 e 16 anni. Il caso, come riporta il messaggero Veneto, era emerso dopo la denuncia presentata dai genitori della più piccola delle due allieve. Entrambe le ragazze alle quali è stato versato un risarcimento di 10.000 euro e che non si sono costituite parte civile avevano sostenuto di essere innamorate dell'uomo. La difesa di quest'ultimo proporrà appello. Acconciatori e ristoratori in queste due settimane di chiusura obbligatorie per l'emergenza coronavirus hanno perso in Veneto quasi 127 milioni di fatturato. Lo rende noto la CGA di Mestre, secondo la quale le misure di contenimento del contagio introdotte dal governo hanno costretto alla chiusura obbligatoria per almeno 15 giorni i saloni di bellezza, parrucchieri, estetiste e barbieri e i bar-ristoranti a cui si aggiungono le gelaterie e le pasticcerie. Sebbene ci si trovi di fronte a delle attività che nella stragrande maggioranza dei casi hanno dimensione contenuti, per il CGA il peso economico e la funzione sociale non sono comunque trascurabili. Secondo un'analisi effettuata dalla CGA tra il 12 e il prossimo 25 marzo, questi due macro settori presenti nel Veneto rischiano di perdere 126,9 milioni di euro di incassi, di cui 20,7 in poi gli acconciatori, 106,2 ai bar-ristoranti, due comparti che complessivamente sono composti da oltre 35.500 aziende che danno lavoro a circa 170.000 addetti. In chiusura uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata di domani. Sul Friuli Venezia Giulia, su bassa pianura e costa, cielo sereno poco nuvoloso sul resto della regione, da poco nuvoloso a variabile, venti a regime di brezza, anche sostenuta nel pomeriggio. Di notte possibili foschie o nebbie su bassa pianura e fascia lagunare. Passiamo al Veneto, cielo da poco parzialmente nuvoloso, sulle zone pianeggianti saranno probabili delle foschie e qualche addensamento di nubi basse fino all'alba, nonché alcune foschie anche alla sera. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e ARPA, vagenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione.